Ciao amici di Conso Tennis, bentornati per una nuova puntata, l'ultima del Roland Garros, perché oggi si è giocata la finale da qualche minuto e ha vinto Novak Djokovic, a sorpresa. Per commentarla, oltre a Federico Ferraro, con noi c'è Marco Imarisio, che ringraziamo e salutiamo. Ciao a tutti, grazie, grazie per l'invito. Marco è un inviato speciale, una firma di punto del Corriere della Sera, ha seguito negli anni politica, guerre e anche tennis. E anche cose serie come il tennis, il tennis svedese in particolare. Esattamente. Hai contato Federico di questo tuo feticcio per il tennis svedese? Sì, io ho questa passione, diciamo lealtà, a quando mi è nata la passione del tennis, Borg per primo, ovviamente, Borg, io stavo per Borg contro Mekarov, questa cosa dei capelli lunghi, la donna in nera, mi sembrava, non so, le imprese di Wimbledon. E poi è finito Borg, è cominciata per me l'età d'oro del tennis svedese, e io mi sono innamorato, non degli svedesi, cioè non di un giocatore svedese, e non di quel giocatore svedese di cui tutti si innamoravano, cioè Stefan Edberg, perché quello è facile, è diverso innamorarsi di tutti gli svedesi, Ulf Stenlund, Jan Gunnarsson, ok? No, 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 allora, Federico, Federico, non, come dire, non so, ricordo, io ho una medaglia sul petto, ok? Molto più importante di qualunque articolo, premio, eccetera, Rino Tommasi, di cui parlavamo prima di entrare in collegamento, nell'edizione dell'86 del Foro Italico, lui faceva un colonnino, una lunga colonna, insomma, un corsivo, in cui faceva il commento della giornata. Alla fine del corsivo, dedica due righe, dice, infine l'ultimo quarto di finale, iniziato dopo un violentissimo, l'ultimo quarto di finale, Kent Carson e Joachim Nistrom, iniziato nel gelo dopo un violentissimo temporale, una partita alla quale soltanto pochi psicopatici avrebbero potuto assistere. Io c'ero ed eravamo tipo in sette, capito? Eravamo in sette, 6-7, 7-5, 6-1 per Nistrom, ok? Io c'ero ed è una medaglia, cioè Rino Tommasi in un qualche modo mi certificò, ok? Come psicopatico, come psicopatico, purtroppo... No, io, Fede, lo sa, io ogni tanto, quando ci siamo conosciuti ormai un bel po' di anni fa, ricevevo dei messaggi lunedì mattina, tipo, oggi Christian Lindel mi gioca il primo turno del Challenger di Nord Köping. Io non sapevo manco chi fosse, lui conosceva gli fratelli Imer ancora prima che iniziassero a giocare a tennis. Ho perso ogni speranza, c'è il terzo fratello Imer che dicono che sia decente, buono. Christian Lindel l'ho anche conosciuto, l'ho avvicinato al Challenger di Orbetello e con un tale entusiasmo che secondo me lui si è anche un po' preoccupato, cioè ha pensato di avere davanti uno psicopatico di un metro e 95, hai capito? Che gli chiedeva notizie, Daniel Berta, e Daniel Berta è un remoto vincitore di un Roland Garros che poi praticamente non ha mai giocato tra i professionisti, ok? L'ho visto l'altro giorno, fa il coach, fa il coach di, forse di Imer proprio. Fa il coach di Imer? Probabilmente, ma poi sicuramente fa il coach. Allora, quando ha perso con Musetti, all'angolo di Imer c'era un altro, come dire, guilty pleasure tennistico, c'era Robinase. Ah, a Robinase gioca ancora? Fa qualche doppio, sì, però quando ha perso 7-5, 6-2, 6-4 da Musetti, al primo turno, Imer, al suo fianco c'era Asa, che credo c'era anche a Ginevra quando lui è stato squalificato, che ha spaccato la racchetta contro la serie dell'arbitro, esatto. E tu ti favi Imer contro Musetti, quindi? Allora, qui si incrociano due, allora, tifare, oggettivamente, i due Imer hanno un tennis abbastanza duro, insomma, non bellissimo, ecco. Amo molto Musetti, amo molto i rovesci a una mano, e Wavrinka è stato uno dei miei giocatori feticcio, e Musetti c'ha qualcosa, secondo me, c'ha qualcosa davvero. Anche se gli manca, secondo me, io Musetti l'ho visto per la prima volta al torneo di Uniors di Roe Hampton, quello che apre la Kermess di Wimbledon. E non sto dando un giudizio di merito, ovviamente, lo vedi lasciare in maniera indecorosa una partita, sciogliere, come si dice a tennis, in maniera indecorosa una partita, che avrei potuto in realtà gestire abbastanza. Secondo me, ogni tanto, gli è rimasto qualcosa di questa scarsa convinzione. Cioè, io penso che Musetti abbia da lavorare, senz'altro a livello di gambe, ma abbia da lavorare anche tanto, secondo me, a livello di tenuta mentale. Contro Alcaraz si è visto che lui ha fatto il break 2-0, ok? E poi Alcaraz gli è risalito sopra 4-2. Da quel momento è diventata un'esibizione, è cominciato a giocare per il punto e non per fare la partita. Questa è una cosa che se sei un top player, se vuoi diventare un top player, secondo me, non puoi permetterti. Devo dirti che mi è piaciuto di più in conferenza stampa, quando ha riconosciuto questo, che sul campo. Dal momento che ti paghiamo profumatamente, occupiamoci un attimo di quella partita che si è conclusa a pochi minuti fa, e alla quale tu hai, a differenza nostra, assistito De Visu. Io De Visu ho assistito, vabbè, Roland Garros ne ho visti tanti. 2021, Nadal che batte Giacovic in quella semifinale famosa, poi rimonta 2-7 a Zizipas, vince il suo secondo Roland Garros e questa partita, oggi, cosa ti devo dire? Io e te, parlo del Federico Anziano, ok? Ci conosciamo tanto tempo, sai come la penso su Giacovic? Penso che sia, penso come te, penso che sia una sorta di dio della guerra vivente, penso che sia, il dibattito sul Goat, non avrete una parola da me, perché secondo me è una cosa stupida, penso che sia già da ieri, già da un po', da molto, il più forte giocatore di sempre. Giudizio, la partita di oggi è finita dopo il primo set, era chiaro che era finita dopo il primo set, mi colpisce sempre questa cosa di Giacovic, di essere in difficoltà a livello fisico e poi di salire sopra l'avversario subito dopo, lui ha vinto in qualche modo il primo set e nel secondo set ha cominciato ad essere oggettivamente ingiocabile, non il miglior Giacovic, io sono dell'idea che noi non abbiamo visto, il miglior Giacovic in Australia, che è stato un torneo tutto sommato non un granché, con una finale non indimenticabile contro Zizi, dove giocarono male tutti e due fondamentalmente, ecco, se devo essere sincero, io adoro seguire i tornei dall'inizio alla fine, non mi immaginavo sinceramente che questo fosse Roland Garros di Giacovic, cioè io penso che lui sarebbe arrivato al 23, non pensavo a Roland Garros, perché io poche volte ho visto giocare Giacovic così male, primo turno contro un giocatore di cui, io non mi ricordo il nome, è un serbo naturalizzato americano, ha fatto una fatica bestia, secondo turno un po' meglio, contro Davido Vecifochina ha giocato malissimo, malissimo, ma proprio malissimo. Senti come ha fatto a vincere la intreguella. Sì, per le mie modeste conoscenze nell'ambiente, soprattutto Monte Carlo, dove spesso si allena, so che c'erano anche molte tensioni all'interno del suo clan, proprio perché dopo l'Australian Open, dopo una lunga pausa per guarire dagli acciacchi e la sosta di Indian Wells e Miami, non sentiva il suo tennis, lui è arrivato a Parigi malissimo. E non sono sicuro che abbia ritrovato il suo tennis, senz'altro gli ultimi due set sono stati i migliori set che ha giocato, ancora forse meglio di Alcaraz, l'avversario era diverso, va detto. Certo, questo ti dimostra anche quello che io sostengo da molto tempo, che secondo me anche voi, sul quale probabilmente anche voi siete d'accordo, stiamo parlando di un giocatore che ha vinto l'Australia uno slam, l'Australian Open, al 60%, qua non sono sicuro che sia arrivato al 70% del suo potenziale, è un giocatore che l'anno scorso ha vinto uno slam, cioè Wimbledon il più importante, se vogliamo, il più prestigioso del mio slam, praticamente senza aver fatto una partita di torneo da gennaio. Per me questo, a parte una breve comparsata, ha giocato malissimo due tornei prima di Roland Garros, poi è uscito ai quarti di Roland Garros contro Nadal. Qui stiamo parlando di un giocatore che ha 36 anni, sicuro, ma ha ancora un margine incredibile. Fondamentalmente uno che va a fare il torneo porta le racchette e dice vabbè, devo vincere una partita barra due per arrivare in fondo. Questo ti dice lunga, la dice lunga secondo me su chi è Novak Djokovic, il livello che ha raggiunto, e secondo me è un livello che hanno raggiunto un tre, proprio perché da giovani hanno cominciato a misurarsi su uno contro l'altro e ad alzare il loro livello, senza accorgersi che stavano raggiungendo tutti e tre fondamentalmente una dimensione sovrumana. Adesso Djokovic, che è vedovo degli altri due, gioca contro degli umani, tranne uno se vogliamo, ok? Su quel tranne uno ti volevo chiedere, perché, vabbè, col senno di poi, però contro l'Alkeraz sano e non vittima dei crampi, secondo te quella partita poteva diventare un match di quelle da ricordare? Quante volte abbiamo visto Djokovic dicendo questa volta non ce la fa, questa volta non ce la fa, ok? Infatti ero abbastanza stupito del fatto che l'Alkeraz venisse ritenuto favorito anche dai bookmaker. Io, sinceramente, di una cosa non avevo dubbi su quella partita, cioè che Djokovic avrebbe cominciato in maniera brutale, perché Djokovic è maestro nonostante tutte le losing, tutte le dichiarazioni carine, anche quella che ha appena fatto su Rood, ha parlato tipo per 45 minuti e rimpiangevo i tempi in cui uno vinceva uno slam, parlava 4 minuti, poi ci andavamo tutti a casa, no? Ha fatto un discorso lunghissimo, ok? Molto carino, molto gentile, però Djokovic in realtà sul campo è una bella carogna, sportivamente è una carogna, e lui è fantastico nel mettere a disagio l'avversario. Contro Alkeraz aveva solo un modo, cioè partire sparato a tutto braccio, e lo ha fatto, e secondo me lì Alkeraz ha cominciato a perdere quella partita. Io quando ho visto il primo, io ero convinto che vincesse Alkeraz, perché c'era un divario di forma fisica pazzesco, pazzesco, anche di sentire la palla, di come usciva la palla, come avete visto quel dritto che ha giocato Alkeraz nel turno precedente, un colpo incredibile, un dritto a uscire, ma non era neanche piazzato con le gambe, c'è solo braccio, allora io penso che lì Djokovic abbia detto perfetto, io ho vinto 22 slam, tu ne hai uno, perfetto, dimentichiamo. Djokovic, non ci dimentichiamo, allora tu mi stai dicendo, sarebbe potuto diventare una grandissima partita, avrebbe potuto Djokovic vincere in condizioni normali? Io ti faccio una riflessione, siamo d'accordo che il secondo set più o meno l'ha regalato Djokovic? No, ha avuto tre palle break, ha avuto tre palle break per andare a servire per il set, ha giocato un game, l'ultimo game di servizio l'ha giocato in maniera orrenda, Alkeraz oggi pone a Djokovic, è l'unico giocatore secondo me che può porre Djokovic davanti al suo ostacolo più grande, cioè il tempo, ok? Perché l'intensità del gioco di Alkeraz è tale che tu ti domandi, ma questo davvero va bene su 5-7, è un maestro nel gestirsi, ma può reggere quell'intensità, lo scopriremo presto, sinceramente, io credo. Anche perché Marco si ripropone il discorso Grand Slam a questo punto, no? Perché poi che piacciono, lo slam in cui fa più fatica Djokovic storicamente, non solo per via di Nadal, è proprio Parigi, che lui ha sempre faticato a trovare il massimo della forma nei tornei di preparazione, ci arriva sempre un po' al pelo e gli dà fastidio questo fatto che la palla non rimbalzi esattamente come dove vuole lui. Sull'erba io lo considero già oggi ampiamente favorito per vincere e mi aspetto per esempio Alkeraz alla prova dell'erba, perché non so se potrà essere altrettanto efficace. Guarda, visto che siamo in una conversazione amichevole, vorrei quasi fare una scommessa. Secondo me, non lo so, secondo me potrebbe essere un Wimbledon pieno di sorprese. Mi spiego. La cosa che a me è sembrato, ma anche a Djokovic, sia in Australia che a Roland Garros, ha perso, non dico un passo, mezzo piccolo passo sulle gambe, ok? Tu sull'erba sai perfettamente che è una questione di appoggi, è una questione di forza degli arti inferiori, ok? Certo, ha un margine pazzesco. Se il braccio gli è guarito, se serve come ha servito nella finale di oggi a Wimbledon, se il dritto gli scorre come ha fatto negli ultimi due set, è dura non pensarlo. Puoi immaginare un rilassamento per il ventitresimo titolo, come fu dopo aver vinto il primo Roland Garros, che cominciò la sua crisi nel 2016, no? E perse da Sam Querrey, forse, se ricordo bene. Sì, da Sam Querrey, ok? E così, certo. E tra i favoriti, sinceramente. Anche perché, non lo so, io sinceramente sono stupito, non credo all'ipotesi di grande slam, ok? Il grande slam era quell'anno lì che lui ha compromesso, secondo me, con una partecipazione sciagurata all'Olimpiadi, dove ha voluto giocare tutto, dal doppio al doppio misto alla gara di Beggemon, hai capito? Ed è definita malissimo, ok? Io ero lì. Anche la danza, ti ricordi? Io ero proprio, c'era un clima incredibile a toccio, un clima che non si poteva giocare a tennis oggettivamente, c'era 40 gradi all'ombra, sul cemento. Allora, infatti, è proprio scoppiato dopo il primo secolo. Così, è così scoppiato che mi ero anche chiesto se c'era stato anche un problema fisico, perché stava a 6-1. Allora, vi ricordate che eravamo nella bolla, per cui non c'erano spettatori, per cui c'eravamo io, Djokovic, Zverev e i rispettivi allenatori delle nazionali serbe. Tu e la racchetta la spaccata di Medvede. Medvede perde contro Ugo Umberte e tira la racchetta, lancia la racchetta in tribuna, in tribuna deserta, io corro a prenderla, la tecnofibra, ed è ancora lì, insomma. Ma, insomma, no, mi sembra, allora, con tutto che considero Djokovic un essere sovrumano, grande slam, prima o poi dovrà anche essere, insomma, cioè, soddisfatto. Voleva questo 23, è arrivato. hai notato il dettaglio che aveva già, aveva già, aveva già la tuta col 23 sopra. Ebbè, ma quello di stata, che comunque, se poi vinci, cioè, io se faccio il primo tino del torneo a Sussiembri, evito di calcestare le strisce, hai capito, per essere sicuro di arrivare in, nelle superstizioni, esatto, questo si era già fatto il 23, hai capito? Cioè, quella tutta lì, sinceramente, l'ho trovata anche un po' insultante per il povero Rudd, vuol dire che non aveva tanti dubbi sull'esito della partita, ecco, no? Eh, no, nessuno. Sì, mi aveva. Nessuno. Però, scusate, però l'anno scorso, quest'anno, Rudd ci ha provato a giocare la partita. L'anno scorso l'ha persa nel tunnel di Miresu la partita, con Nadal. C'era anche una componente umana, probabilmente, per il suo regame che c'è con Nadal, non lo so. A me... La quadratura di pre-ingresso sullo chatrier che diceva tutto. A me Rudd sorprende in positivo, nel senso che non avrei dato così tante chance in carriera addirittura a Rudd, invece questo ha fatto tre finali negli ultimi cinque slam. Per me è abbastanza assurdo. Però bravo lui, cioè, secondo me è un giocatore che ha limiti importanti, però, d'altra parte, si vede che nella testa è un giocatore vero. Io sono d'accordo, mi limito a sottolineare, la grande sfortuna di Rudd è questa. Cioè, secondo me, per le caratteristiche tecniche di Rudd, il peggior matchup che può avere è quello con Nadal. Ma il secondo peggior matchup è quello con Jokovic. Dice, sono... come dire, sono i peggiori per tutti. D'accordo. Per lo stile di gioco di Rudd, anche di Rubler, per esempio, ok? Tu cosa fai quando hai davanti a Jokovic? Tu sai che di rovescio è più forte di te, col servizio è più forte di te, col dritto è più forte di te. Correre, correre, corre come te. Anche di più, forse, ancora. Ancora oggi, forse di più. è difficile anche, come dire, non è... non lo so, Rudd ha un dritto che ogni tanto lascia partire, ma non è un giocatore che ti... cioè, che può sfondare l'avversario. Non è del poto, non è del poto, non è quel tipo di giocatore lì. Eh, esattamente, esattamente. È uno dei primi degli umani, ok? significativo che lui, che lui abbia fatto questi risultati qua nell'Islam. Cioè, secondo me, è più, ha performato molto più delle sue reali capacità, del suo reale valore. Cioè, si è messo dietro... il reale valore qual è? Scusa, se vince le partite... Sì, sì, per carità, però... Il 110 esiste solo nel super bonus, e per fortuna non esiste più. Cioè, il... però tu non ti aspetti risultati migliori da parte di Tsitsipas, Medvedev... No, Medvedev, ok. Per esempio, Tsitsipas no, perché c'ha un buco dal lato sinistro che è di rovescio, e poi con l'infortunio nella spalla mi sembra che la situazione sia peggiorata più che migliorare. Zverev, per dire, io mi aspetterei di più da Zverev, ma Zverev è un giocatore che in un game ti fa tre e se è un servizio vincente. Il game di servizio dopo va a servire 5-3 e fa due doppi falli, due secondi, è un dritto che torna indietro, controvento. Io mi fido più di Grud che non di Zverev, sinceramente. Fa uno scambio che sta 5 metri dietro il campo, uno scambio che può accoprire di controbalzo. Va a rete perché gli dicono va a rete, lui sulla prima palla non buona va a rete. Cioè, ha 25 anni ed è confuso ancora. Io sono d'accordo con entrambi in Federico, cioè nel senso che secondo me è il giocatore che mi dà più garanzie. Appunto, uno dei primi nella top 5 degli umani, ok? ai Karatz cominciamo a metterlo già abbastanza fuori categoria. Che ti devo dire? Sai, la storia dei giocatori, la storia dei giocatori normali, umani, per diventare campione. Cosa significa diventare campione? Vuol dire Arud è stato quasi di lì per diventare il numero uno del mondo. Il numero uno del mondo è un buon argomento. L'altro è vincere uno slam. Passa. E cioè, come dire, è il momento. E il momento, cioè, non so come dirti. Allora, Alexander Zverev, giocatore che non ho mai diciamo amato, ok? La sua carriera, cioè lui stava giocando la miglior partita che gli ho visto, una delle migliori partite che gli ho visto fare nella sua vita, ok? E si è spaccato la caviglia alla fine del secondo set contro Nadal. Stava giocando una partita incredibile, una partita tra l'altro non ho mai visto una partita così violenta fisicamente, ok? Con cui anche No, e non solo. Lui stava giocando meglio di Nadal da tre ore ed era sotto un set per il secondo. Servendo tutti e due i set avendo servito per il set. Questo dimostra della sua scarsa forza mentale che è nota, ok? Ricordiamoci che ha servito per vincere una slam, hai capito? lo US Open del 2020. Vinto da un altro giocatore quasi normale, perché Tim è stato un momento in cui sembrava potesse diciamo rompere la barriera, ok? Tim ha vinto quello slam lì e ha smesso di giocare a tennis fondamentalmente. Questo ti dimostra quanto è duro arrivare fino a lì. Cioè noi siamo, io ripeto, noi stiamo leggendo la realtà con gli occhi di chi è stato testimone di un'epoca in cui, cazzo, cavolo, è normale, in cui è normale ci sono tre giocatori che hanno vinto 20 slam. Io sono cresciuto con Borg che era secondo soltanto a Roy Emerson, hai capito? Con i suoi 11 slam. Poi abbiamo visto Sampras, 14, e pensavamo vabbè basta. Però Sampras per esempio era uno che veniva dove sei tu adesso e non dico che facesse la figura del piga. Ha fatto una semifinale che lo prendo contro Caffennico se ricordo bene nel 96. Credo, credo, era una terra diversa senza altro, però credo che questo ad esempio ci, insomma, noi parliamo spesso, parliamo sempre di tennis, voglio dire, se no ci toccerebbe parlare di cose brutte, eccetera, insomma, lo sport è il reparto giocattoli della vita, via. Ad esempio, guarda Sinner, esatto, guarda Sinner. Il grandissimo rifugio. Sinner, noi stiamo parlando di Sinner come se fosse il prescelto, The Chosen One, come se fosse Lebron James del tennis italiano, ok? Sinner è fortissimo, sono abbastanza convinto che vincerà degli slam, ma non, come dire, noi leggiamo la realtà col filtro di questi mostri che ci hanno aglietato gli ultimi vent'anni della nostra vita, senza pensare che l'epoca di quei tre è qualcosa che non tornerà mai più. Io non metto, e che ha drogato completamente il dibattito, perché dai dieci smegli in giusto e la pipa. I nostri idoli di adolescenza, di infanzia, Vinander Navichi, Otto, Edder Vinavintisè, Becker, forse uno in più, adesso non mi ricordo, ma come dire, e non era male, ed era tanta roba, ok? Cioè, poi ognuno aveva... Io stavo vedendo un po' di cose che oltre, vabbè, i 23 slam, il fatto che ne ha vinti almeno tre in tutti e quattro gli slam, che è una cosa folla, secondo me, ne ho visto un altro, ho dovuto ricontrollarlo 4-5 volte perché non ci credevo. Joggi ci ha giocato 70 slam e ha fatto 34 finali. Cioè, lui, uno su due sulla carriera va in finale. È pazzesco. Secondo me, non che fanno paura di tutti, e oltre a questo, ha giocato 13 finali da ultra trentenne e ne ha vinte 11. E a Roland Garros, che non è il suo torneo preferito, cioè più preferito nel senso di... è il suo slam più difficile per caratteristiche tecniche, come ha detto nell'orazione conclusiva, ok? Da quando è arrivato la prima volta, ha sempre fatto quarti di finale, ok? Tranne una volta sola. E ha il maggior numero di quarti di finale disputati. Voi ovviamente sapete che è l'unico giocatore che è stato capace di battere Djokovic da 2-7-0, da sotto, da 2-7-8, giusto? No, non lo sapete? Djokovic ha sempre fatto quarti di finale a Roland Garros, tranne una volta, che è anche l'unica volta che ha perso da 2-7-0. avanti. Allora, Roland Garros li ha perso con Cole Schreiber, Jürgen Mezzer, con Jürgen Mezzer, gli ha rimontato in 2010, gli ha rimontato 2-7, Jürgen Mezzer, esatto, è un record pazzesco, cioè, è un record pazzesco, questo è in giro dal 2006, perso contro Nadal la prima volta, i quarti di finale, ha sempre fatto quarti di finale, in un torneo che gli ha sempre detto male, peraltro, eh? Cioè, tra le sconfitte che gioco, di Cercocca, 9-7 al quinto set in semifinale contro Nadal nel 2013, con quella, con quella, con quella sì, con quella, con l'interferenza con la rete, la finale, la finale del 2015 resta una delle partite più incredibili che a cui ho mai assistito in vita mia, cioè, io non ho mai visto un giocatore, Wawrinka, fare un numero tale di vincenti in una finale, poi di rovescio, non lasciamo perdere, ma, e quello era l'anno che lui aveva deciso vinco Roland Garros, spinto tutto su Roland Garros, poi l'ha vinto l'anno dopo, cioè, è un mostro di perseveranza, di, io penso anche, sinceramente, che cosa unisce questi tre, Federer, Nadal, Djokovic, ognuno, a un certo punto nella sua carriera, nella sua tarda stagione della sua carriera, ha avuto un problema con Kyrgios, se ti ricordi, cominciò Federer dicendo, there is another clown, we need another clown for the circus, poi spiegò, poi spiegò, dissimulò, così, Nadal, Kyrgios, non si amano, lo sappiamo bene, Djokovic, prima della plateale dimostrazione d'amore, anche da ufficio stampa dell'anno scorso, si odiava con Kyrgios, perché vedono in Kyrgios tutto quello che loro non sono, qui stai parlando di persone che hanno dato la loro vita per il tennis, che non hanno conosciuto altro che il tennis, noi sappiamo tutti, nessuno di noi, Federico lo sa, nel senso, Federico lo sa, perché ne abbiamo parlato tante volte, nessuno di noi farebbe a suo figlio il trattamento che Tony Nadal fece a sua nipote, al giovane Raffaele, ok? Nessuno di noi, perché è qualcosa che va quasi oltre, cioè, oggi forse sarebbe quasi da denuncia penale, ok? Djokovic è la stessa cosa, questa gente, Federer anche, ok? Federer tra l'altro è il più colto tennisticamente, nel senso che ha studiato solo una cosa, solo il tennis, ok? E vedono uno che dice, vabbè, io vado in campo, porto le racchette, ogni tanto me le dimentico anche, gioco, porto la borsa con le racchette non incordate. Ricordi la faccia che ha fatto Djokovic quando Kyrgios ha detto, prima della cerimonia di, dell'estrazione che aveva il tabellone principale dell'Australian Open? No, non ricordi quale è. Esatto, se vincono Slam smettano. Kyrgios per questi è inconcepibile perché questi, Agassi abbiamo letto tutti Open, abbiamo letto tutti, come dire, i sacrifici che ha fatto all'inizio, ok? Ma a un certo punto, certo, ma a un certo punto ha detto basta, ha detto basta, tutto sommato, ancora in giovane età, insomma, ok? Ma erano già anni che andava abbastanza, come dire, che si era sposato, cioè questi, le mogli, la vita fuori, è un accessorio, cioè Nadale e Djokovic non hanno conosciuto nient'altro che questa cosa qua, la loro vita è questa roba qua. Vedere che uno che dice, la sera prima di battere a Nadale sono fatto le tre di notte in un pub di Acapulco mi sono ubriacato, tragico, poi sono tornato, mi sono fatto prestare due racchette da Cochinatis e sono sceso in campo, diventano pazzi, diventano pazzi ed è questo, però questa cosa qua, questo tremendismo esistenziale e atletico è anche quello che li mette in una categoria sopra, è anche quello che gli dà un margine così alto. Parliamoci chiaro, Nadal, Nadal, non ha giocato questo Roland Garros, forse siamo davvero ai titoli di coda, ok? Ma Nadal ha giocato gli ultimi 5 Roland Garros sapendo che doveva vincere fondamentalmente una partita, una, una, le altre si allenava e provava i colpi e lo stesso vale per Gioccovici molto spesso, no? Senti Marco, volevo farti una domanda solo al carattere, perché mi sono passato io su questo canale ho detto varie volte di non aver mai visto una roba del genere in campo relazionato all'età, relazionato al tennis che ha e relazionato soprattutto a questa prepotenza fisica che io trovo sconvolgente. Tu l'hai visto l'apparecita al vivo? Non so se l'hai mai visto prima che ne pensi di al parazzo? Cioè chiaramente è forte quanto è forte per te? Allora condivido il tuo stupore cioè condivido l'impressione che ti fa vedere dal vivo è impressionante come come ha come ha fatto capire la la violenza la brutalità con la quale ha fatto capire a Tsitsipas che amico mio hai 26 anni ma il meglio è passato ok? Per te il meglio è passato cioè la partita contro Tsitsipas mi ha fatto impressione perché Tsitsipas mi è sembrato vecchio vecchio all'improvviso superato ok? Superato e stiamo parlando di un giocatore che da junior tutti dicevano non si diceva se Tsitsipas vincerà uno slam ma quanti ne vincerà si discuteva di questo all'improvviso a 26 anni questo è vecchio cioè Tsitsipas per vincere uno slam deve sperare che non ci sia Alcaraz e qui arriviamo al punto è mostruoso secondo me in termini di comprensione del gioco gli manca ancora qualcosa lui non ha capito cosa stava facendo Djokovic non ha capito niente per tutto Primo contro Djokovic ok? secondo me deve ancora imparare a cosa che condivide con Sinner che è un repertorio molto più limitato deve ancora imparare non tanto a variare perché Alcaraz possiede ogni variazione possibile ma a capire che tirare forte non è sempre la soluzione giusta non è sempre la soluzione migliore lui ha questa esuberanza fisica che lo porta molto spesso come dire a esagerare col ritmo dato alla partita detto questo è impressionante detto questo ho un dubbio Nadal alla sua età non era formato fisicamente come lui le fasce muscolari soprattutto degli arti inferiori di Alcaraz sono molto importanti quasi più da calciatore oserei dirti che da temista sinceramente visto da vicino allora io ho visto solo una persona solo un giocatore di tennis con i polpacci più grossi di Alcaraz che è Karatsev ok e pochi giocatori con le fasce bravissimo bravissimo pochi giocatori con le cosce e i quadricipiti di Alcaraz esattamente Roberto Carretero è una dote esattamente è una dote è una dote ho paura che sia anche un limite Alcaraz mi sembra un giocatore che ha bisogno di una gestione che vada maneggiato con cura ecco lo dimostrano i crampi contro Djokovic quello forse è ancora una cosa giovanile può darsi che ci fosse dell'emozione può darsi che così però ecco è l'unico è l'unico asterisco che metto a uno che sicuramente vincerà tantissimo ma tantissimo ripeto prima di vederne un altro arrivare a 20 stiamo a 10 per adesso ok non è svedese ma poco ci manca Rune io per quanto mi stia sull'anima il suo atteggiamento in campo credo che abbia già capito molto di questo sport e pur mancandogli la potenza di fuoco di Alcaraz mi piace il fatto che sappia leggere così bene le situazioni e l'avversario credo che anche lui potrebbe infilarsi in questo discorso di questa generazione che salta gli zvere è uscito di dimensionare da questo Roland Garros ha bucato sicuramente nella partita contro Rud dicci bene è uno straordinario impasto di sapienza naturale di tennis ma ancora di ingenuità un vostro amico Ivan Liubicic l'ho sentito dire che Rune diventerà ancora più forte quando smetterà di giocare da Juniors cioè ha ancora degli schemi da Juniors e in parte un po' si vede ok al tempo stesso ha la malizia di comprendere che cosa fare per mettere in difficoltà l'avversario esempio classico la partita con Sinner di Monte Carlo ok dove per un set viene dominato poi capisce che a Sinner devi dare delle palle senza peso devi alzare dei candeloni ok e Sinner va completamente nel pallone poi c'è tutta la querelle col pubblico bla 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 eccetera però è un giocatore che c'è io aggiungo una cosa perlomeno su superfici veloci perché parlo di quello che ho visto deviso io ho visto la finale dell'anno scorso a Paris-Bercy penso sia stata forse la più bella partita dell'anno ok già oggi il rovescio di Holger Rune è secondo forse soltanto il rovescio di Djokovic e comunque vederli scambiare su quella diagonale capisci che Rune può giocare su quella diagonale con Djokovic oggi avete visto che come dire le difficoltà di Rune che è migliorato tantissimo non nulla come Djokovic come dire mette metti in risale se tu hai un piccolo difetto tecnico stai sicuro che Djokovic te lo viene a prendere come dice Roddick prima ti prende le gambe poi ti prende come dire il braccio e poi ti prende il cuore ed è esattamente così Rune non ha paura esatto Rune non ha paura non ha paura perché è strafottente ok diciamo come dire vi ricordate una volta quando io giocavo a basket si parlava dei giocatori ignoranti cioè i giocatori ignoranti sono quelli che non hanno come dire sono così dentro il mondo il loro mondo da tiro all'ultimo secondo avversario forte non me ne frega niente ha un po' un'attitudine posso dire serba gli sportivi serbi Sergio Tavkar ha scritto un libro illuminante sulla capodista ha scritto un libro si ritrova l'ho comprato online ok qui racconta il basket jugoslavo e racconta come in questa fascia in questa fascia che attraversa la Serbia che ovviamente comprende anche Belgrado ok eh sia nata sia stata la culla del basket jugoslavo ok con questi giocatori ok che vedevano i fenomeni dell'NBA Vlad e Dira Sascha Danilovic e dicevano vabbè magari fumando una sigaretta perché come dire non si facevano mancare niente vabbè salta schiaccia ok non si facevano intimidire ecco Rune ha un'attitudine di questo tipo non lo intimidisce e questo secondo me è già è già una stigma oddio stimmate il singolare di stimmate è lo stigma del campione ok è lo stigma del campione Rune bisogna avere un pochino di pazienza deve registrare qualcosa sicuramente nella testa perché è vero che manda spesso fuori i giri l'avversario ma è vero anche che il dispendio emotivo che fa nel sacramentare nel così per un ragazzo di vent'anni gli toglie qualcosa gli toglie qualche game a partita però arriva gioca benissimo gioca benissimo stiamo parlando di Alcaraz di Rune due giocatori che finalmente sanno fare tutto ok non so se avete visto i tentativi di Sermembole di Zverev contro contro Rude come dire confronti i film porno che sono una roba per educande cioè insomma una roba fin dell'orrore no ero incerto se l'altra sera se rivedere appunto gli approcci a rete di Zverev o la Evil Dead o il reboot della casa hai capito di Sam Raimi perché come dire in quanto a orrore eravamo eravamo grossomodo allo stesso modo eravamo sullo stesso piano e sì perché poi tra l'altro questo risponde anche alla domanda che spesso si fanno i tifosi di vari giocatori ma perché non va a rete non va a rete per questa ragione esattamente come uno che sapeva giocare a rete Federer una volta diede una risposta illuminante in conferenza stampa scherzava ma non troppo dice ma perché non fai sempre serve in volley dice perché non voglio trovarmi con un buco in pancia perché con questi materiali con queste braccia con queste braccia ok ragazzi non puoi fare sempre non si può più fare sempre serve in volley il pat rafter non tornerà più ok perché a 200 all'ora con dritti che vanno anche più forte ok non puoi non puoi devi giocare un gioco misto mi sembra che Alcaraz e Rune portino qualcosa di nuovo al tavolo del tennis Raffa anche per te Federer era il suo primo su Langarossi in probabilità principale su Langlen Raffer che è uno che forse avrebbe dovuto almeno Wimbledon avrebbe dovuto vincerlo ok però insomma la finale tutti ricordano come un atto di giustizia verso Ivanisevic ma insomma insomma comunque era un gran giocatore ma è un giocatore che oggi non avrebbe più i giocatori a prevalenza rete detto che anche Rafter comunque dovette imparare a giocare da fondo campo per vincere due slams ricordo che dice abbiamo passato l'inverno a fare cesti mi sembra che Rud e Alcaraz siano un'evoluzione interessante anche piacevole ok senti già che ci siamo Marco ti chiedo del terzo che sarebbe quello più interessante per noi perché siamo italiani che è Janik Sinner che però rimane un po' indietro sicuramente rispetto ad Alcaraz secondo me anche rispetto a Rune ed è stata un po' la delocione di questo forse più hai visto quella partita da là o comunque cosa ne pensi guarda io non sono così pessimista esistono due problemi il primo è un problema di condizione fisica Rude oggi è un giocatore che ha un motore che consente di giocare bene per due ore e mezza ok sinceramente mi aspettavo qualcosina di più sinceramente anche Musetti ha questo problema a mio avviso Sinner è più evidente Sinner non è un giocatore naturale di terra penso credo che si sopravvaluti anche col quarto di finale fatto a Wimbedon l'anno scorso arrivando senza partita alle spalle sull'erba ho visto che farà una preparazione seria sull'erba per cui vuol dire che ci crede non mi sembra neanche un giocatore d'erba naturale d'erba battuta come diceva Gianni Clerici naturale penso comunque che già così sui due slam sul cemento sia uno che non puoi non mettere tra quelli che possono vincere il torneo è un giocatore da cemento nato fatto e finito ok te l'hai visto anche contro parliamoci chiaro un giocatore da 2,50 cioè da ATP 2,50 come Altmaier a cavallo tra il challenger e il coso il modo in cui Altmaier sfruttava gli angoli e le diagonali il modo in cui giocava da terra battuta tutto sommato tenendo presente di avere davanti Sinner quindi dandogli queste palle senza peso questi dritti molli ok sui quali Sinner fatica a caricare perché perché Sinner è un grande contrattaccante più gli tiri forte più lui te la rimanda forte è un giocatore da cemento gioca dritto per dritto a me la cosa che un po' colpisce è e questo secondo me rivela anche una certa diciamo come dire diplomazia della stampa che si occupa di tennis la chiamo così perché il problema che a me preoccupa molto di Sinner è che Sinner gioca ancora come giocava due anni fa tre anni fa quattro anni fa io ho tutti questi progressi oggettivamente fatico a vederli ok adesso qualcuno mi deve spiegare perché in 5-7 in quasi 6 ore contro l'Akmaier Sinner non ha fatto un back un back un back ma esiste un giocatore nei primi 50 che non gioca mai il back mi serve il back ok ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato diverse volte come se i pezzi del gioco mancanti si potessero aggiungere la mostruosità di quei tre lì lascia perdere Federer che aveva già tutto beh oddio neanche nel 2017 Federer aveva imparato a giocare a rovescio in un altro modo ok ma la mostruosità di quei giocatori lì di quei tre lì è proprio questo ma voi vi ricordate il dritto di Gioco dice in un suo carriere è il servizio di Gioco è il servizio di Gioco quando tornava l'ha rinunciato e poi gli ha rimanato avvanzando i pezzi come meglio il disastro che faceva Nadal contro Mariano Fuerta sta finendo la sua carriera come uno dei migliori giocatori di volo del circuito è il servizio di Nadal è il servizio di Nadal però ragazzi siamo ancora lì cioè da quando hai cominciato a giocare tra i professionisti di Singer si dice c'è un problema sulla seconda palla e quando va in tensione perde come dire fluidità nel servizio e poi tra i due colpi come dire il rovescio come il rovescio di Ferrer ne sbaglierà quattro in tutta la carriera di dritto ogni tanto sotto pressione contro i giocatori più forti lo perde siamo ancora lì siamo ancora lì tutto sommato a rete non mi parlate di Singer a rete ha imparato a fare qualche drop shot secondo me questa è la cosa che più mi preoccupa questo è in chiave slam parliamoci chiaro lo US Open è forse uno degli slam più duro che c'è per le condizioni climatiche è il più adatto a lui tu devi avere devi metterti almeno un'altra ora di tennis nelle gambe perché dopo la perché si è visto contro contro l'Atmayer che lui era cotto ma era veramente che faceva fatica a stare in piedi ok è ancora è un work in progress è un work in progress c'è Djokovic in conferenza stanza insomma è un Djokovic è un giocatore in fase di costruzione senza dimenticare che a 22 anni uno può arrivare a 25 a 26 anni dipende degli obiettivi che uno si dà dobbiamo dimenticarci quella cosa lì dei venti slam ecco insomma ovvero la lente attraverso la quale leggiamo la realtà del tennis oggi va bene sì sono d'accordo perfetto perfetto allora ce la siamo lo conti prendi su tutto Marco quindi va beh spesato spero di non avervi annoiato troppo che noia infatti va bene grazie ragazzi a presto un grande abbraccio ciao ciao complimenti ciao a presto ciao ciao grazie ciao 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 ciao